Volpiano, nonostante la pioggia, la staffetta 1000%, nata da un gruppo di associazioni sportive del territorio, ha avuto un gran successo. L'iniziativa rientrava nel programma dei festeggiamenti per i mille anni di Volpiano. È stato il sindaco Emanuele Dezuanne a proporre ai volpianesi alle 80 associazioni attive sul territorio di mettere in rete gli eventi del 2014, per promuovere cultura, storia, tradizioni, enogastronomia e commercio. La staffetta, che si è svolta nel campo di atletica Liebore Mennea di Volpiano, ha coinvolto mille cittadini di tutte le età. Non una gara agonistica, ma una manifestazione, momento di aggregazione e divertimento. L'evento era inoltre candidato ad entrare nel Guinness dei Primati, come la staffetta più lunga mai completata, rispettava infatti le caratteristiche olimpiche della staffetta corsa in una corsia, con i testimone, che non deve mai cadere ed è stato cronometrato dai giudici della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera.